Teo e Thea! La bevanda che vi presentiamo oggi è una fresca spremuta a base di bacca pesca. Come? Pokémon? E va bene, una lotta veloce prima di cominciare con le riprese. Ci sei? Sì! Teo e Thea, come no? Certo che vi sfido! Ah. Gandolfo e Valeria. Che delusione! Vi hanno cambiato nome. Puuu. Puuu. Non ricordo se anche il diamante e perle originali hanno un nome diverso. Però Puuu per voi.